Ciao a tutti e bentornati, ciao Giorgio, ciao Fiorenza, ciao a tutti e ciao a questi splendidi Shih Tzu Proprio splendidi, hai esatto il termine giusto perché sono dei cani, beh niente, che si può dire Sono veramente belli, allora qui in braccio io ho una cucciola di quasi quattro mesi che si chiama Anna Guardate quanto è bella, e poi Alguinza, prima io, poi te, che sono una donna, ho la precedenza E qui abbiamo Zafferano che è veramente bellissimo, ha un colore di velo meraviglioso Zafferano fatti vedere, vieni qua, fatti vedere quanto sei bello Poi tu e... vabbè parlate adesso E quello che vedi non ti ricordi No lo so invece, lei si chiama Mila e lui si chiama Ugo Ti ho stupito Mi hai stupito, allora dobbiamo ringraziare la signora Ilzia Solaro, allevamento solaro per questi al solito immaginabili splendidi soggetti Sì, sono due Shih Tzu, lo Shih Tzu è un cane diciamo sicuramente abbastanza conosciuto, Fiore, nel senso che comunque è un cane che oramai da tanti anni vive nelle nostre case Noi abbiamo già fatto vedere in precedenza, se ti ricordi, ti ricordi qual era quell'altra razza? Ah 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 Allora, la Zapso Bravissima, la Zapso, complimenti Allora, spesso e volentieri diciamo ci possono essere delle situazioni oppure si possono confondere Le caratteristiche sono molto molto differenti tra le due razze Ma intanto la Zapso credo sia anche il doppio di grandezza Sì, molto più grosso, infatti questi sono cani che le femmine possono aggiungere 5-6 kg, maschi 6-7, ma insomma quindi sono molto più piccoli E poi fondamentalmente una cosa che li differisce, non certo appunto nel fisico che insomma è differente, nelle caratteristiche dello standard, nel carattere In Lhasa abbiamo visto essere un cane estremamente diciamo volitivo, diciamo abbastanza diciamo caratteriale Mentre invece lo Shih Tzu è quello che in realtà ti conquista e quello che ti dà è proprio tantissimo amore Quindi in realtà è una prerogativa di questa razza essere estremamente proprio affettuosi ed è grandi cani da compagnia Sono di una morbidezza incredibile Come dicevamo all'inizio della nostra trasmissione loro fanno parte del gruppo Zafferano, vieni fatti vedere perché sei talmente bello Non ti metti le cose di schiena Aspetta che ti do un aiuto Zafferano Zafferano Poi sotto tutto questo corpaccione di pelo in realtà sono poi dei cagnolini Vicini Non voglio tanto disturbarlo ma ok Zafferano siediti Aspetta che vi è a Chiappomila Sì Allora come diciamo cani da compagnia gruppo 9 Sono dei cani antichissimi anche questi come abbiamo detto le origini risalgono praticamente a regione del Tibet Erano cani che venivano tenuti sempre dai modi I monaci tibetani Esatto erano dei cani naturalmente sacri Erano dei cani che come tutti i cani in quell'epoca a parte diciamo il discorso appunto di essere cani sacri Avevano anche un'attitudine sempre come cani da guardia Abbiamo visto che per queste razze piccole il fatto di essere piccoli non prescinde dal fatto che possano essere degli ottimi guardiani Nel senso che sono cani che come tutti i cani piccoli avvertono, controllano Degli allarmi Degli allarmi, bravissima Qui abbiamo naturalmente due splendidi soggetti Abbiamo detto dell'allevamento della signora Solaro Vogliamo dire ai nostri telespettatori che cosa vuol dire Shih Tzu? Presa in castagna Shih Tzu vuol dire cane leone Cane leone è vero è vero è vero Hai ragione cane leone Infatti la loro preoccupativa è appunto questa testa e questo pelo che li rende appunto simili a dei piccoli leoncini Infatti sono presenti in tante rappresentazioni appunto di quell'epoca Allora io volevo sistemare meglio Ugolino perché mi sta scivolando E quando si parla con i cuccioli in braccio è sempre un po' il terrore di fargli male Ok Ugolino sistemati così Allora diciamo che le caratteristiche di questo cane a parte il carattere stupendo e meraviglioso Anche diciamo più o meno sono nel loro stupendo mantello Spesso e volentieri la gente appunto ci dice ma come mai io non riesco ad avere un cane con quel pelo Oppure naturalmente tutto questo dovete immaginare e sapere che dietro a questo tipo di pelo E dietro diciamo per esempio questo cane A Zafferano c'è un po' di lavoro E' importante usare abbiamo sempre detto dei prodotti adeguati Nel senso che spesso e volentieri quello che noi riscontriamo nella quotidianità nel nostro lavoro Naturalmente adesso il discorso è più generalizzato Sono dermatiti a volte del dermatosi O situazioni magari diciamo della pelle non perfette per uso di prodotti O di prodotti a volte quasi cosmetici oppure di detersione piuttosto impropri Quindi naturalmente quello che vogliamo dicono insomma ricordare e raccomandare E' quello di usare sempre prodotti specifici per il mantenimento della pelle e del pelo dei vostri cani Allora un'altra cosa Lo Shih Tzu come abbiamo detto può essere tenuto in queste condizioni Però naturalmente immaginate un cane del genere portato a spasso per una villa In nostra città o al mare o in campagna naturalmente non è possibile A questo punto diciamo con l'aiuto di un bravo tollettatore Potete praticamente tenere il pelo del vostro cane sempre nelle condizioni diciamo come Da cucciolo Da cucciolo esatto Per cui un bravo tollettatore riesce a dare praticamente una lunghezza del pelo al vostro cane Identica a quella che praticamente il cane poteva avere quando era un cucciolo esatto di 3, 4, 5 mesi Quindi un pelo è estremamente facile da mantenere Ha bisogno solo di una spazzolata Non di più E l'idea è che comunque il look è sempre piacevole Certo non avrete queste frange meravigliose Però come si dice insomma che bella vuole apparire Qualche pena deve soffrire Quindi se non siete nell'opinione o nelle vostre diciamo corde Non c'è questa grande attitudine a tenerlo così in ordine E' preferibile piuttosto che il pelo si infiltrisca o si annodi E naturalmente possa creare poi dei fastidi alla pelle Tenerli sempre con il pelo così corto Lo Shih Tzu diciamo che a parte un grandissimo cane da compagnia Perché ti ripaga in pieno Quindi diciamo l'amore che tu gli dai te lo ripaga Forse anche un pochettino moltiplicato Quindi è una situazione come va a volte nelle situazioni affettive Fiore sei completamente ripagato A volte non succede con le persone In questo caso con il cane sempre Con gli Shih Tzu in particolar modo Allora sono cani estremamente anche longevi Quindi dalla loro hanno comunque la possibilità di tenere compagnia Come abbiamo visto per altre razze per tantissimi anni Problemi dello Shih Tzu in realtà non ce ne sono Se non quello che potrebbe E spesso quello che noi verifichiamo Patologia a carico dell'occhio Perché fondamentalmente lo Shih Tzu potrebbe E qui usiamo un po' il condizionale Avere degli occhi piuttosto bulbosi Sporgenti in fuori Però naturalmente questa non è una caratteristica di razza Quindi diciamo l'occhio sì è abbastanza grande E un po' prominente Però non deve mai essere un occhio estremamente diciamo troppo esposto Gli occhi troppo esposti naturalmente sono degli occhi poco protetti Per cui possono andare incontro a delle dermatite Scusate dermatite a delle congiuntiviti o cheratiti Quindi quello che ricordiamo Fate sempre attenzione Quando avete un cane a pelo lungo Qui parliamo dello Shih Tzu Naturalmente all'uso del FON Il FON spesso diciamo se è usato in maniera impropria Può creare naturalmente Se diciamo l'aria calda arriva a contatto degli occhi Diciamo naturalmente dei fastidi piccoli, medio o grandi che siano Quindi qualora doveste asciugare il vostro cane Ricordatevi sempre di usare più o meno il FON Dalla parte posteriore andando in avanti Mai usare una fonte appunto di aria calda Scusa se ti interrompo Zafferano Vieni qua Zafferano fatti vedere Allora Tutti i cani che vengono qui ospiti puntano quella stanza lì Che c'è la cucina Probabilmente perci Ecco perché ci danno sempre le spalle Ah ma pensai che non ci avevo pensato Ho svelato il segreto C'è qualche odore che arriva Quindi praticamente fate sempre attenzione all'uso del FON Un'altra diciamo più o meno appunto diciamo Prerogativa di questi occhi E di poter manifestare delle cheratiti pannose in tarda età Non è detto che questo sia Però fondamentalmente se l'occhio non è ben diciamo curato Fin da giovane questi piccoli ripetuti insulti Magari non ti dico proprio quotidiani Possono derivare Possono poi scaturire diciamo in tarda età Uno di questi problemi Come tu vedi o come potete vedere Questi shizu che hanno il pelo molto lungo Hanno in realtà tutti chiamiamoli questi capelli Tirati su in modo che abbiano gli occhi scoperti Questo non lo prendete come un vezzo Spesso e volentieri la gente ci dice No ma a me non piacciono con i capelli tirati su Chiamiamoli capelli con i loro peli tirati su Non mi piacciono perché lo preferisco Allora ricordatevi che Tutti questi peli che comunque quotidianamente Sono negli occhi Possono naturalmente come dicevamo prima Lentamente nel tempo Creare piccoli insulti Che poi possono naturalmente maturare In qualcosa di più grado di più serio Quindi se avete intenzione di prendere un shizu Ricordatevi che è quasi indispensabile Insomma è un'ottima diciamo Attenzione ai suoi confronti Questa di avere sempre i peli Diciamo tirati su Quindi in questo caso hanno delle treccine Hanno degli elastici Potete applicare qualsiasi cosa Scusami Sto intrattenendo con Annalisa Annalisa Annette E un'altra cosa Voi vedete che per esempio Qui in questa femmina Naturalmente loro hanno dei baffi molto lunghi Per cui fondamentalmente Questi baffi quando crescono Scendono e non possono dare fastidio Quindi diciamo che sono due prerogative Quelli di tirare i suoi capelli E quelli di far scendere praticamente i baffi Una cosa molto importante Per appunto questi geni degli occhi Spesso in questa razza Quello che si può riscontrare È la presenza di un'ernia umbilicale E che cosa comporta l'ernia umbilicale? Diciamo praticamente poco e niente Spesso diciamo che in un certo senso Viene un po' demonizzata Nel senso che molto spesso Diciamo padroni giustamente preoccupati Possono creare Naturalmente avere un certo allarmismo Non abbiate Diciamo se l'ernia è un'ernia umbilicale Normale di una piccola entità Quindi le femmine possono comodamente partorire I maschi non dà nessun fastidio Spesso c'è un certo Chiamiamo interventista C'è un'area un po' interventista Al senso subito operiamoli Se non sono ernie esagerate Non dico trascuratele Però non abbiate nessuna preoccupazione Né nel partorire le vostre femmine E tantomeno per i maschi ci possono essere problemi Un'altra chiamiamo la prerogativa di questa razza Spesso può capitare Che in giovane età Abbiano non proprio dei difetti di respirazione Però possono avere a volte dal naso Una formazione quasi di schiuma E sarà difficile inquadrare Però questi cani hanno un naso piccolissimo E più che altro delle narici piccolissime Questa prerogativa fa sì che nei primi mesi di vita Possano manifestare se non proprio una tosse Qualcosa che può essere confusa Ecco con una bronchite O con una difficoltà di respirazione È una chiamiamola Nemmeno questa è una patologia È un modo di essere loro Che comunque poi piano piano nel tempo Sicuramente quando il cane diventerà adulto Sarà diciamo destinata praticamente a sparire Quindi tra virgolette Non riempite, non imbottite i vostri cani Shih Tzu di antibiotico Se il cucciolo pur manifestando Diciamo appetito Quindi vitalità, vivacità Può avere chiamiamolo Non un problema Ma una respirazione che potrebbe Scusa Firenze Sembrare un qualcosa di patologico Quando in realtà non lo è Quindi diciamo un'altra cosa L'alimentazione per loro Come per tante altre razze Abbiamo suggerito il secco Per loro una ragione di più Perché evita appunto Che pappe fresche Possano mantenersi Diciamo appiccicarsi sul muso Creando poi naturalmente Forse situazioni antiestetiche Ma crea della sporcizia Mi rendo conto Che hai ancora altro da aggiungere Giorgio Mi fanno i cenni Finto il nostro tempo Mi dispiace Vuoi ricordare il sito? www.allevamentosolaro.com Com, bravo Ho visto? Ci sono arrivati in aiuto Avessi questo piccolo corpo a corpo Grazie a tutti Ciao a voi Ciao a voi Allora Lasapso Bravissima Lasapso Complimenti Allora spesso e volentieri Diciamo ci possono essere Delle situazioni Oppure si possono confondere Le caratteristiche sono molto Molto differenti Tra le due razze Intanto la Lasapso Credo sia anche il doppio Sì molto più grosso Infatti questi sono cani Che sono le femmine Possono aggiungere 5 6 kg Quinsa Prima io Poi te Che sono una donna Ho la precedenza E qui abbiamo Zafferano Che è veramente bellissimo C'è un colore di velo meraviglioso Zafferano Fatti vedere Vieni qua Fatti vedere quanto sei bello Poi tu e Vabbè Parlate adesso Ecco allora Vedi non ti ricordi No lo so invece Lei si chiama Mila E lui si chiama Ugo Ti ho stupito Mi hai stupito Allora dobbiamo ringraziare La signora Irzia Solaro Allevamento Solaro Per questi al solito Immaginabili Sprenditi soggetti Sono due Shih Tzu Lo Shih Tzu È un cane Diciamo sicuramente Abbastanza conosciuto Fiore Nel senso che È comunque un cane Che è oramai Da tanti anni Vive nelle nostre case Noi abbiamo già fatto vedere In precedenza Se ti ricordi Ti ricordi Qual era quell'altra razza I maschi 6-7 Insomma quindi Sono molto più Più piccoli E poi fondamentalmente È una cosa che le differisce Non certo appunto Nel fisico Che insomma è differente Nelle caratteristiche Dello standard Nel carattere In l'Asa Abbiamo visto essere Un cane estremamente Diciamo volitivo Diciamo abbastanza Diciamo caratteriale Mentre invece lo Shih Tzu È quello che in realtà Ti conquista Ciao a tutti e bentornati Ciao Giorgio Ciao Fiorenza Ciao a tutti E ciao a questi Splendidi Shih Tzu Proprio splendidi Esatto il termine è giusto Perché sono dei cani Beh niente Che si può dire Sono veramente belli Allora qui in braccio Io ho una cucciola Di quasi quattro mesi Che si chiama Anna Guardate quanto è bella E poi Con una cucina di